Corno Ancora un lancio per Spampatti Controllo di Spampatti, traversone insidioso e Peruchini mette dentro E si fa trovare puntuale Mirko Peruchini Grande azione di Spampatti, traversone e con puntualità Peruchini realizza il suo primo gol In Gribeli Attenzione al limite, conclusione, deve superarsi Speroni Lancio per Riva Attenzione a Riva Che può portarsi in area a Riva Supera un avversario all'indietro Bonomi, sinistro, palla sul fondo Intanto la palla al centrocampo Il lancio per Spampatti, attenzione opportunità Spampatti, conclusione e c'è il 2 a 0 E qui quando Spampatti va via in velocità non ce n'è per nessuno Trentanovesimo il gol di Spampatti La rimessa in gioco a favore del Fiorenzova che prova a ripartire in avanti con Ingrid Belli Una conclusione insidiosa Capelli Per vento di Micheletti Poi Ancora il Fiorenzova in avanti Attenzione questo 1-2 Siamo al limite Parte una conclusione C'è il gol Del Fiorenzova Peruchini Peruchini Pedroni Spampatti Buono per Bonomi La conclusione centrale Di Bonomi all'ottavo Riesce a toccare sulla destra per Riva Avanza Riva Può andare al traversone Pericoloso Il copo di testa Di Bonomi Per il 3 a 1 Realucci sulla sfera Il traversone Cappelli di testa Michi Eletti Allontana Per Bonomi Controllo Difficoloso Taccione Spampatti Spampatti E in vantaggio Spampatti Trattenuto Supera il portiere E Spampatti La conclusione Fa in tempo Anche il Portiere C'era un rigore netto Su Spampatti Capelli Pedruzzi Ecco Pedruzzi Ancora Pedruzzi Bonomi Pedruzzi La respinta Attenzione Può scattare Capelli Lo scatto anche di Spampatti Ecco il servizio per Spampatti Spampatti in area Pallonetto E gran gol E gran gol Di Fabio Spampatti E l'avevo un po' preannunciato Che avevamo visto ancora una rete Grazie 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 a tutti